Eccomi qua, sempre a Kobe, ci stiamo dirigendo verso la parte dove c'è l'oceano perché c'è una ruota panoramica e tante amiche le cose da vedere, prima che piove e dopo andremo qui nel centro commerciale. Mentre andavamo verso la ruota panoramica abbiamo beccato questa bellissima statua di Elvis Presley che gli hanno dedicato qui in Giappone e poco fa c'era anche una di quelle sue, una sua canzone che si sentiva da questo speaker, faccio vedere. Adesso non cantano più, non suona più, però era dedicato a lui, guardate che palazzoni, la statua di Hal Beas, non mettono solo quelle di Gundam, vedete il G28, ma ogni tanto, vedete, Elvis Presley. E qui c'è la sua storia sicuramente in Giapponese, in inglese non l'hanno, non c'è in inglese? No, tutto in Giapponese, anche qua, qua, tutto in Giapponese. Molto bella, a stato di Hal Beas, e qua attorno dobbiamo andare da quella parte, si è di bronzo, per arrivare alla ruota panoramica. Poi, ah, poi c'è questo palo che adesso lo vedo, dedicato sempre a lui, vedete? Molto bello. E poi ho notato ora, c'è una foto della zona qua del porto, di sera, come è di sera, qui di notte. È tutta bell'illuminata, qua c'è un disegno, guardate com'è. E così. Questa è la ruota panoramica, che non stiamo andando praticamente lì. Molto bello. Va bene. Ora vi saluto, continuo il mio giro, fino all'arrivo del porto, dove si vede l'oceano. Quindi ci vediamo dopo da Kobe, e seguitemi su Facebook, JapanotakuParadise di Giappone nel cuore, mi raccomando su YouTube, iscrivetevi. Ci vediamo dopo, qui a Kobe. Ciao ciao!